E bentornati! Bentornati a una partita di Raman Luigi Si stiamo andando lentissimi ultimamente ma Come avete potuto da Come potuto Come avete potuto vedere dalla parte precedente Il caos più totale I livelli sono lunghissimi Pallosi ed il poco impossibile Ok andiamo a fare il dentino No no Ma va bene Non lo dobbiamo fare alla fine Insieme a Ma guarda C'è ancora un livello normale Se ci si fa Eh si concordo Ma come ci ha fatto dannare un sacco E tutt'oggi ci fa dannare Chissà se ce la faremo Aspetta qui devi saltare solo su alcune rettaforme Non saltare Merda! Oddio! E cosa mi sono salvatto? Ah merda! Lascia fare il lavoro a una creatura d'acqua come Globox No dai che stiamo andando bene C'era la corrente c'era Stiamo andando dun bene Recupera Rana Oh che cosa fa Rana? Bravo ragazzo Vai! In pratica qui No! Aspetta recupero Ma che è Siamo troppo indietro mi sa Oh no Aspetta Aspetta! Vai! Vai! Scusa! Vai che c'è di piano No! Guarda la mia chiacchiappa! Vai dai! Mi sto pagando in mano Ma non è che mi sto pagando gravità in mano Sì sì no abbiamo capito Sì sì no abbiamo capito Sì sì no abbiamo capito Sì sì lo so lo so No dai No se mi fa il video al massimo Io un livello per questo stronzo non ce lo dedico Un video a questo stronzo non lo dedico di certo Ma porca! Ciao! No a quanto di questo Dai! Vai! Tanto è! Ora viene il punto difficile Salta a parete Salta a parete Salta a parete Salta a parete Plana Vai! Salta a parete Salta a parete Salta a parete Salta a parete No io facevo il video Fallire per così fa Ok Quarto dentino Tre minuti Dai che forse ci si fa Se siamo abbastanza spediti L'ultimo livello normale Sì No facciamo il livello normale Se no si perde ancora più tempo Sì come se Alla fine della parte Come sempre Pinna da paura Pinna da paura 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 Forse non è negli abissi eh Lo spero proprio Guarda Loom qui Eh fermo Ho trovato qualcosa Ma un simbolo ricordo Sto livello È quello dove Bravo Ok Guarda Tento Tenti ragazzi Questi sono dei pescioni Ma secondo loro si Tento Eeeh No ma che cazzo Mi stavo fortunando Vabbè Vabbè Ma più classico So che ti riuscimo Ma Ma no io queste spunzioni proprio Bravo Resta lì Fermo fino a qua No stiamo fermi Perché mi sa che anche io Fosse stramato Non si sa mai Fermo Guardate Tre Non due C'era un terzo Ma stesso Io proprio Non lo so Fermo Qui c'è la prima gabbia Eletons C'è in Legends L'abbiamo fatto in Legends Vai Scappa Mi sto distruggendo Sto mondo mi sta letteralmente Dovrebbe essere questo il mondo finale No Ah bene Tu pensi solo a scappare Ci pensano i nemici I seguitori a farmi fuori Tento Ma perché si rompia Ma non mi hanno sperato Si rompia Sto strancio Abbastanza Giusto E io me lo leverei dal cazzo Sinto Guarda Ma porca puttana Mi sta pure in sperare Dovrebbe essere questo il mondo finale No Ci sono ancora io vivo Ma perché i gamberetti non ci sono Meglio Sarà un bel bug Porca maniata Se muori per questi Non mi scledono Aspetta Adesso salto Ecco Lo tiro sugli sponsori Strano Non ci sono Vai Ma è un bug a favore nostro Si Queste sono le perove Che i miracoli talvolta possono esistere Io odio di ciò Perché Ci sono un gioco online No Anche sempre ci sono un live Giacavo Si 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 Eh c'era No Se dopo un po' non riuscivo a fare una missione Si C'era modalità per dance C'era Un bel cappio di dance Vogliono proprio farti sentire una merda Ma porca Vai Ma Maremma Mi scrivo io mi scrivo Stavo tirando i cepponi anche a te LOL Dai andiamo avanti adesso Su Il mio amico ce l'aveva usato Ah Scena No perché sarà rotti i possi Quindi non potrei giocare Ah E così farebbe pure di giocare Ma perché la Aspetta Anche questo c'era un Legend Non lo ricordo Sento gridare help o sbaglio Helpami Non lo so Però devo fare uno svelto qua eh Provaci Vai Grandioso lui Allora cerchiamo di non morire come nostro di solito Aspetta Ma c'era help? No non si può Perché c'è la corrente Ma solamente perché c'è la Si ok Te lo dio subito Non parlo più ma Solo a vedere queste alghe mi viene nervoso Non è tanto da tirare un mocco questo livello Fermo 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 così vado più piano è più vantaggioso Eh ma io come faccio devo venirti per forza dietro se no Fermo fermo Ma porca Vedi lo fa E' impossibile proprio sti livelli Dai almeno tu Fermo qui No niente Quattro lume nient'altro di più No finalmente usciamo Fermo No liberami però Eh ancora Un altro Ecco sento la seconda gabbia E' qui sotto E vai che ci si fa forse in sta parte Eh fermo Te lo ricordi si me lo ricordo Dobbiamo fare un tuffo di precisione megagalattico Cosa la precisione megagalattico o un tuffo megagalattico? Eh il tuffo non tuffo di precisione megagalattico Vai grande Mitico Cicciona come te No Vai ora andiamo Sì Andiamo avanti per Ok io lo prendo Discoordinazione ai massimi livelli Prendiamoli lo stesso Sì Io intanto Siamo diventati una moneta fessa Ma che grande Cioè ma al te lo vengono sono pro Sì lo vedo Lo vedo Attento Sono uno di cui provo Che neanche chiede un martello Vai Ma l'hai presa tu Fermo Prima prendi il re Ce l'abbiamo fatta Bravo Pamantino Fermo qui mi sa che c'è Niente Bravo Bravo No Bravo Bravo Di perderla Aspetta qui dobbiamo passare di sotto Veloci E siamo alla fine E siamo alla fine E siamo alla fine No No Sarebbe troppo bello per essere vero Bene No 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 Sì 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 no no Sì No sai non lo so Ah ok Allora Non vorrei fare così Lasciamo al sospanso Rulla di tamburi Peccato che non c'è un tamburo Anche io No Non ce l'abbiamo fatta Merde La francese Figo Ok Continuo Bene ragazzi Per questa parte è tutto Nella prossima parte Gli ultimi due livelli Di questo mondaccio De cacca Giusto Bravo Bisogna consegnare il dente Bravo Prima che me lo dimenticassi Eh Novantuno Vai L'albero sbaviglia No no Quello no Dai forse alla prossima parte Oh Non lo so Chiudi 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 12 minuti Ok Ok ragazzi Quattro denti Ci rivediamo alla prossima E termineremo Sto cazzo di mondo No Non ci casco Ciao ciao